Grandi eventi a Pescara, si parla della Notte Bianca, in questo caso forse l'evento clou dell'estate del Capologo Adriatico. Ci sarà il 14 luglio, questa mattina avete però annunciato al Sessore Cuzzi il contest di questa manifestazione e soprattutto un grande nome che arriverà quest'estate a Pescara. Siamo giunti alla quarta edizione, abbiamo avuto delle edizioni molto partecipate, oltre 200.000 persone per questo straordinario evento che promuove la vocazione turistica della città e si sviluppa su 9 km di costa per l'occasione interamente pedonalizzata. Oggi abbiamo annunciato questo contest che ha l'obiettivo di rendere virale e più social questo grande appuntamento. Raggiungibile appunto dal sito nottebiancadeladriatico.com, il contest si chiama Scatta e vinci la Notte Bianca. Ci saranno dei premi appunto per coloro i quali si faranno una foto dal portale, la condivideranno su Facebook con l'hashtag Notte Bianca dell'Adriatico e quindi si vinceranno dei biglietti per i concerti di Coetz, Negrita e Renzo Arbore, delle cene nei migliori ristoranti della città e dei pernottamenti nelle strutture alberghiere sempre per il 14 luglio. Inoltre sarà possibile avere anche dei pass speciali per accedere nell'area backstage dei principali concerti. Nei giorni scorsi abbiamo annunciato i primi artisti che intratterranno un pubblico di giovanissimi come Fra Quintale nell'area eventi Cofa con il concerto di Fra Quintale, avremo il rapper Nois Narcos nell'area dell'Hawai e oggi abbiamo annunciato anche il nome, lo straordinario concerto di Loredana Bertè all'Arena del Mare Spiaggia della Madonnina. Inoltre abbiamo invitato con una lettera i 46 sindaci della provincia di Pescara appunto perché la Notte Bianca si pone l'obiettivo di promuovere l'intero territorio regionale e provinciale e quindi li inviteremo a partecipare gratuitamente a questa straordinaria manifestazione per promuovere la loro cultura, le loro tradizioni, i loro eventi e anche le eccellenze no gastronomiche.